Nicolò Bonifazio è una grande promessa, molto atteso sulle strade della Guiglia, una corsa che conosci forse più nella tradizione. Sì, diciamo che fin da quando ero piccolo andavo lì a vedere la corsa e mi sembra piaciuta, mi piacerebbe far bene la prossima settimana, speriamo di arrivarsi in condizione, poi non so ancora precisamente il percorso, però comunque sia cercherò di dare meglio.